Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 41esima puntata di GTA V Eccoci qua, con il colpo alla Merry Weather qua Non salta sul cofano? Ah, perchè non posso fare le cavolate qua Floyd, seguiamo Floyd No, ho sbagliato tanto Vabbè, lì mettercelo non è che sia tanto semplice, eh, questo Tanto semplice ne apre giù Ma... Ma queste sono scritte militari Governo Qualcosa stricte di questo? La straccia di governo è freddo Puglia, si vede proprio Questo straccia è stato sentito qui Tu stai cominciando a riuscire la mia curiosità. Ok. Entrai ora curioso? Metiamo che in chia. Tu! Abbiamo bisogno di due ragazzi sul portiere. Un paio di contenitori e il baby devono essere portati a F. Questo non è una domanda. Prendi! Ora! Ah, devo sempre chiedere a F. Ok. Aspettate! Abbiamo bisogno di fare questo! Come potremmo riuscire la roba in questa cosa? Pensavo che tu ne avevi già? Noi non abbiamo i contenitori, ma loro saranno controllare la tua carta! Ma io sono nervoso! Ma è meglio non stare che ci alziamo troppo e poi facciamo la missione. La missione. Perché ci ribattiamo sicuramente. Ma è meglio prenderlo insieme! Sticci alla storia! E' bene! 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 prendiamo un livello basso sembra che vi battilano ma no qua? si ok adesso andiamo a prendere l'altro mamma mia lo prendi anche da tutti? no ma qual è il tuo tasto? ancora guardate là questi tasti no come? il container è stato danneggiato l'ho abbassato un po' troppo dai non è che ho danneggiato troppo ma ragazzi dai come dire adesso ce la facciamo sinceramente come sapete con la serie che a questo punto in teoria dovrebbe anche essere finita si penso proprio di si che ormai la serie è finita eeeh sono avanti con GTA un po' meno diciamo eh sono avanti di due giorni circa perchè poi ci vuole anche più tempo eeeh niente infatti devo cercare di registrarmi un po' di puntate per portarmi avanti eeeh eeeh a dirò il vero eeeh 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 comunque boh qui ci vi penso appunto di posto now I'll get the other one for you me anyway I'm gonna need a better view of that freighter I'm sorry comunque niente boh adesso la scuola ha iniziato da un mese e oggi eeeh mese si ottobre oggi oggi si ottobre oggi si oggi questo mese ottobre mi sembra oh shoot mmm penso proprio di se c'è il il i dialoghi che mi fanno invenire non so perchè ma per registrare questa puntata mi sta venendo tanto non so perchè ma mi sto prendendo un nervoso non chiedetemi perchè guardate e ve la lasciate lasciate un bel viaggio no 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 eh godete godete gi la gru cerchiamo qua sopra ah pensavo faccio una roba tipo di bella Eh sono qua Tutto bene Sicuramente A Wario mi dici Ok ora ci sarà da salire il mondo No Non è che tanto Sì ma da perché devo andare io Scendi la scaletta Ah è vero che queste ce l'hanno sotto la cabina Bella Sto qui lo facciamo anche da dentro Ragazza che mi piace No ho qualche voglio non si può Allora aspetta Meno male con la rotellina nuova Se ho quella del mouse vecchio praticamente facevo un disastro perchè Non funzionava più la rotellina Aspetta da mila 32 No aspetta aspetta che qua mi inverti i tuoi comandi Allora posizioniamoci col camion Io non vedo il camion Quindi in teoria ci dovrei essere sopra Allora aspetta There's the truck Set it down gentle Bring the container down over the truck's frame And you said you wasn't qualified Go back up to the other end and start again Take us back up to the other end Che nemmeno basso Con le ruote Io non l'ho mai visto Con le ruote Quelli che conosco Io hanno tutti tipo i binari Ah ma c'è tipo le lucine verdi anche Per indicarmi Ah ma così è semplice Semplice Toh Tipo Così che conosco io hanno la rotaia Ma non la rotaia Hanno Mi ruote del treno tipo Ti ho morto Non l'ho mai visto Di per vedere Ma Però Ah per di così non va Quindi Di far più dire Che sono Eh giusto Allora You're done Great time Mie Lavora Cinque minuti eh Pausa Gli due minuti Aggiungi la posizione elevata In fondo alla passarella Scattiamo delle foto alla barchetta Dai Ah per scattare Allora La parte frontale Di una guardia Sta lontano Va bene Ah Aspetta come faccio adesso Una via foto Trono Ora penso Che posso scendere Io mi butterei Sinceramente Anche col paracadute No Ma non così No Ma Non volevo buttarmi giù così Eh Sinceramente Ve lo dico Non l'ho fatta apposta Bello un camion Sì ma Mi è cambiato Se mi è rimasto Vabbè Siamo là dentro Sì sì 2007 500 giri 2250 Vediamo una radio Qua non rispettiamo niente No però Mi scusi Uh Mamma mia Guarda che belle le onde Troppo bello GTA 10 all'ora 10 all'ora O 10 miglia Non lo so 10 miglia Quante 10 all'ora Può essere Le miglia Sono meno Dei chilometri No Senta No In effetti Le miglia Sono meno Dei chilometri Sì Però io non so come Riacganciarmi i rimorchi Sì Mi rimorco Allora Così siamo a posto Adesso Ok bene Se ci fosse stato Uno scania Qua Ah no Qua già qui dentro Ehi No Non so È Restriccato Non so Non so Non so Adesso 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 ma poverino dai trevor ma devo salvare per un salto sicuramente cosa è successo la copertura a ok non devo spararli va bene sarà nessuno può non rinforo ma un'epoca non non di qua ma no tutta sta roba di nuovo bene ragazzi io vi dico d'ora in poi seguirò tutte le istruzioni perché ho già giocato a tutti i arti e quindi un po' in più per dover sapere le missioni no sbaglio tutto ma anche perché voglio provare le cose divertire un po' vedere qui si ferma che sono due chilometri domanda dentro che dal camion si vede malissimo ehm va bene no guardate lo scambi il pulsante dello scania il clima dello scania tutto lo scambio di pulsante petto 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 e che mai detto che ho perso il semirimo ma che posso immaginarmi una cosa dovete anche dirmi ma dai passo 9 gradi cavolo è della pioneer di la radio mi sembra di sì quella della scania fornita da pioneer c'è quella della pioneer fornita da scania no non perderlo ancora ok i neurotracc simolators sono capace di guidare quando saltiamo tutto la borsetta se l'ha fatta sparire lascia la zona vietata ma che cosa ho visto una macchina no mi sbaglio riprendiamoci il camion mi chiamava ron aspetta che lo chiamo io ok non funziona ma è brutto che non si può mai parlare un po' come si vuole col telefono sarebbe bello prendiamoci la blista compact in teoria questa qui no aspetta più bella l'altra questa quella lì mi sembra che si che si chiamava blista compact una volta vediamo questa strada 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 io prendo la storciatoia secondo te mi faccio tutta la strada ok com'è auto ma no auto si chiama no futo no scusate tutto gt un attimo un voleto auto auto gt allora andiamo di qui quali qua fra il treno qua torno via qui sulla destra non frena sta macchina ok ok 180 oh si 180 1 km 80 5 ah ma è la Karin ok va bene saltino no una macchina da drift ma non ho voglia di cambiare macchine ce ne tante buone ma non ho voglia di cambiarle credo bene ormai è mezza distrutta non va più niente neanche oh andare sembra che vale si comporta bene beh la BMW non do me la prendi ok guarda qui la foc ma dai che mi vieni contro la Porsche sono io solo per stare a guidarmi non ti preoccupi ma perché la gente ma secondo me su GTA il traffico è fatta a posta per farti picchiare contro perché cioè la gente che si ferma negli incroci cose così si va bene c'è cavolo c'è sempre si fermano guarda come è parcheggiato la macchina e te la rubo non so bene anche che la chiudi mi sentite questa si che ho al turbo al motore modificato no vuole battere l'elicottero ma non so come no RPG non ho niente guarda quello col faggio me la metto qua magari ci sta mi sentite mi sentite mi sentite mi sentite Ma cosa sei sta roba? Zangoli non pensi? Cosa non è ancora bene. Non c'è nessuno che capisce perché Flawick fa usare lui così. È un po' di stagione, Wade. Dobbiamo creare le stagione. Ora! E? Perfetto! All right, so based on my observations, I'd say these Meriwether security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. We need a guy to plant the bombs, a guy to look out for him with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, Yelp is off the coast. Let's see a little bit now. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? Chicago? All right, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Mmm, ma... L'elicottero io non è che sono tanto tentato, facciamo un'ora da fare. Ok. Ok, ok. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade, qui, fu incontro dalla performance dei suoi obiettivi La città umana ha sippato nelle loro pezze E mi sono scusato di dire questo, ma non credo che non sarà mai smontato Ah, ecco questo Non puoi andare in Unione Tu sei Unione, ok? E tu hai votato per noi, ok? Guarda! Ah, ma perchè tipo hai fermato... Pulito i gabinetti, no? Forse Tu stai planando una roba sul mio posto di lavoro Hai violato il Mr. Raspberry Jam, e il Dio solo conosce che altro... Damage, Deborah Guarda, la mia signora e la mia Unione E' tutto ciò che ho Quindi non puoi... Non puoi... Non puoi lasciare tutto spiegare? Eh? Se sei piaciuto... Con quello che si è successo con il tuo cusino E' così, ok? Ma io gli daria un bacino e li rinunciare No! No bacino! Come niente bagni Venuta la notte Ok Missione completata Traduogo al porto Ok non ho visto per... andiamo a farci un giretto in moto vediamo un po e no niente giretti ragazzi sono già 27 minuti di video ok finito il dialogo da bene tutto ciao a tutti